Un saluto a tutti e benvenuti sul canale. Se stai guardando questo video, questo trailer, sicuramente non sei iscritto al canale Planet Spin e forse nemmeno sai che cos'è Planet Spin. Planet Spin è un network di informazione totalmente gratuito in cui si parla di pesca a 360 gradi con approfondimenti sullo spinning e il kayak fishing. Siamo presenti sul web con il sito www.planetspin.it. Inoltre abbiamo il canale YouTube, Instagram e siamo anche su altri social come ad esempio Facebook dove abbiamo la pagina e il gruppo con oltre 5.000 iscritti. Planet Spin è presente sul web da oltre 20 anni ed è in continua evoluzione e trasformazione. L'obiettivo è rappresentare un punto di riferimento per tutti gli appassionati di pesca dove ognuno può trovare e condividere informazioni allo scopo di crescere e migliorare insieme. Iscriviti ai nostri canali social per restare sempre aggiornati con i nuovi inserimenti, non perderti i nuovi inserimenti e come sempre grazie a tutti per la visione di questo video e restate sintonizzati sul canale Planet Spin. Un saluto a tutti gli amici di Planet Spin. Ciao ragazzi! Grazie a tutti!